È un traguardo importante, ci sono tante partite, quindi devo ringraziare sicuramente tutto quanto l'ambiente, il Presidente, la società, speriamo di poterlo festeggiare nel modo migliore, con un bel risultato, però quello che sarà importante è fare una bella prestazione, visto il valore dell'avversario. Il Milan è una squadra che è difficile anche da affrontare perché ha della velocità, si lascia degli spazi, ha dei grandi giocatori, soprattutto in attacco, quindi una partita sotto aspetto tattico è interpretata bene, forse anche come sempre nei 90 minuti anche con alternative, bisogna stare bene, bisogna avere mentalità, bisogna giocare bene perché contro quelle squadre se non giochi bene e subisci solamente il gioco, prima o poi comunque perdi e perdi anche male, avere l'ambiente giusto in casa, il miglior ambiente possibile, che è quello che indubbiamente dà qualcosa in più a questa squadra, insomma ci vogliono tutte queste componenti per fare una bella gara, come ho detto abbiamo fatto spesso, non possiamo avere questo tipo di calo assolutamente fino a, abbiamo ancora un mese e mezzo di campionato ed è importante che ce lo giochiamo al meglio.